Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, insieme. Sì, sì. Oggi Antonio andrà a giocare alla sala giochi. O sono un euro, un tentativo. Credo di sì, dici un euro. Sì, io sono una schiappa. Sì, speriamo. Ragazzi, scusate, ci avevamo persi. Allora, in pratica, ragazzi, non siamo andati a quella sala giochi che ero andato io nell'altro video. Se ve lo siete persi, guardatelo. Allora, poi, ragazzi, siamo... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il nostro fan che ci ha saltato. Sì, veramente, era il nostro amico. Eh, va bene. Va bene. Ok. Ragazzi, ecco qua. Lui sta trovando l'euro. Ecco. Oh, pezzi, eccoci. Io non ti so qui. Questo qua. Ti prego. Deve finire... Io ho la tecnica, deve finire il tecnico. Cinque secondi. Quattro, tre, due... Ti prego, ti prego. Dai. Un euro sprecato, ma dai. Sì, ragazzi, un euro sprecato. Vabbò, Stitch lo vinceva sicuramente. Era meglio che mi chiamavo Stitch. Stick con la cavola. Sì, Stitch. Cioè, comunque, ragazzi, abbiamo incontrato un nostro amico. Eh, o niente. Ora andiamo dai cinesi. Dai cinesi. A vedere qualcosa, senza che compriamo. Sì, siamo a zero euro, centesimi. Sì, zero euro. Quando siamo dei cinesi ve lo diciamo. Antonio, cosa vuoi vedere? Ok, raga. Siamo dei cinesi e vediamo cosa c'è. E eccoci qua, ragazzi. Che buono sì. E' no, ragazzi. Facciamo finta di prendere, ma non prendiamo un cavolo, perché non abbiamo zero euro. Qua il reporto che si dice, ah, interessante. Ragazzi, raggiungiamo 20 like. Andiamo a un negozio, a caso, e vediamo se possiamo prendere qualcosa con un euro. Tipo la challenge, la challenge. Ah, la challenge, è vero. Tipo, a 20 like c'è una challenge. La challenge. Se possiamo prendere qualcosa, a un euro, dai cinesi, dal supermercato, da tutti i negozi. Ok, ragazzi. Vediamo, vediamo qua che c'è. Intanto c'è... Mina, ragazzi, questa è bella. Sì, bella. La striscioletta è bella. Mina, è la stanza, è fighissima la stanza. Ma questa è bella? E ragazzi, vediamo qua nelle lampadine. Mina, questa qua è bella, è molto bella. E ragazzi, questo video si può concludere qua? Ho perso, come sempre. Eh, noi abbiamo perso. E noi vi salutiamo. Pure io ho perso. E noi vi salutiamo e ci vediamo. Ma hai spoilerato il video? Come abbiamo spoilerato? Tu hai fatto il video, abbiamo spoilerato. Hai altri? Spoilerato? Vabbè, come si dice? Parte grigia. E poi... Che dovevamo dire? Ah, vabbè. Comunque, ragazzi, noi vi salutiamo. Un euro sprecato. Come la mia vita sprecata. Eh, sì. Finché non arriviamo a 20 like, noi non facciamo nessun video. Ciao! No, quella c'è la idea.